Bene, ben arrivati a Genova e benvenuti a Marco Polo. Questa ho letto la venticinquesima annata di vita dell'Associazione, quindi è un anno importante, la ricorrenza è del quindicesimo anno di presenza al Gassini, se ho letto bene le date. Quindi direi che sono date che scandiscono un percorso e per me è molto bello e molto importante che il Marco Polo sia sulla vostra strada un soggetto che accompagna, che aiuta ad avere la disponibilità della sala, la giornata e il vostro lavoro. La vicinanza con il Gassini è una vicinanza sicuramente importante, e quindi abbiamo alcuni rapporti di collaborazione, anche istituzionale, ma l'idea di avere anche un'associazione che si appoggia alla nostra scuola mi pare una cosa che risponde bene al valore educativo, alla funzione sociale della scuola, che è indirettamente anche in questo caso la funzione del patino. Quindi io vorrei rinnovarvi anche l'invito per gli anni prossimi ad essere qui con vero piacere che vi ospitiamo. Credo che tutta la nostra scuola riceva dalla presenza delle associazioni, lo facciamo con le associazioni di categoria, quelle che più direttamente impattano sul percorso didattico, sia con le associazioni dei genitori, sia con le associazioni che nel mondo civile si muovono per migliorare il livello della ricerca e il miglioramento del welfare, dovunque comunque inteso, insomma noi crediamo che la scuola possa essere coinvolta, essere un soggetto che può davvero essere compagno di strada per un pezzo. Quindi buon lavoro, buona permanenza a Genova e buona giornata qui a Marco Polo. Grazie.